Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in a 1 km di coda per veicolo fermo in avaria verso nord tra Barberino e Aglio. In a 11 codi a tratti per traffico verso Firenze tra Pistoia e il Bivio con la 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze per Etola. E arriva in FIPI di rallentamenti per viabilità esterna che non riceve ancora una volta verso Firenze tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Siamo al traffico ferroviario per un guasto agli impianti di circolazione tra Lucca e Nozzano. I treni regionali in linea potranno subire ritardi e variazioni. Tutti i treni interessati sui nostri canali social. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, tre lavori al via in settimana con provvedimenti di mobilità. Segnaliamo quelli di asfaltatura in via del Roncolungo e lavori alla rede idrica in via di Cave di Monte Ripaldi e la riqualificazione di via Mariti. Buon versi di Toscana Info, servizio in collaborazione con la regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!